E questa veramente è una notizia straordinaria, è una bella manifestazione, un'azione importante del nostro comune insieme con il comune di Evrea. Evrea ci lega all'Olivetti praticamente perché il primo computer transistor fu chiamato appunto da Adriano Olivetti e Lea, quindi diciamo che vogliamo rinsaldare questi rapporti anche perché è un rapporto tra le due città e di natura complementare. Abbiamo un sito unesco per quanto riguarda l'industria e noi per quanto riguarda la cultura, quindi diciamo che queste due realtà possono tra loro realizzare progetti importanti. Cultura e tecnologia possono viaggiare di pari passo? Devono viaggiare perché la cultura e la tecnologia hanno sempre al centro l'uomo, quindi è importante che si rinsaldano questi due momenti per fare sì che possano arrivare frutti importanti per i nostri territori. Adriano Olivetti, è mai stato da Scea? Conosceva insomma la nostra bella cittadina? Non so se sia stata da Scea, però so che conosceva bene il pensiero parmenideo, quello dell'essere e quello di questa grande opportunità che noi abbiamo, quella del sito archeologico di Elea Viglia, quindi era talmente innamorato del pensiero di Parmenide che ha voluto per l'appunto chiamare uno dei suoi gioielli Elea. Ecco allora, il 6, questo importante momento, secondo lei è l'inizio di un percorso comune tra le due realtà? Sì sì, questo è assolutamente un inizio, questo è l'inizio, dopodiché proprio in questa occasione dobbiamo concordare quelle che sono le azioni comuni che possiamo mettere in campo tra le due città, quindi seguirà una visita di una delegazione del comune di Ivrea da Scea e quindi alla fine di questi due incontri programmeremo poi delle iniziative comuni. Intanto ecco, Velia e Elea è stata anche all'attenzione della visita del Premier Conte nei giorni scorsi a Vallo della Lucania, nei vari interventi si è parlato del nostro patrimonio archeologico, ecco focalizzando l'attenzione soprattutto su Velia e sull'esigenza di dare a questo sito un'area museale. C'è grande attenzione non da oggi ma da sempre da parte dell'amministrazione comunale? Sì assolutamente, insieme al professore senatore Castiello abbiamo portato all'attenzione del Presidente del Consiglio la necessità di realizzare finalmente a Velia il museo archeologico è stata inserita nell'agenda politica per cui questo è già un grande passo avanti. Ecco, della visita del Premier Conte, secondo lei che cosa, come dire, imprimere nelle nostre menti e nei nostri cuori? Un bel momento sicuramente, lei era tra i tanti sindaci presenti. Allora, in prima fila nella sala, che cosa le rimane di questo momento? Innanzitutto è importante che un primo ministro venga di nuovo nelle nostre zone, questo a distanza forse di oltre 50 anni, già questo è un dato molto molto positivo. Puoi mettere al centro dell'agenda politica il mezzogiorno è un'altra notizia, diciamo, molto molto importante. Io stimo il Presidente perché è una persona molto equilibrata, una persona fattiva e diciamo che in questi tempi veramente già molto.